Ed ieri l'operazione provvidenza bis dei carabinieri del ROS che ha portato all'esecuzione del provvedimento di sequestro di beni per un valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro disposto dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore capo Giovanni Bombardieri nei confronti degli eredi dell'imprenditore mafioso Teodoro Mazzaferro, classe 38, deceduto nel 2018, lo ricordiamo, nel momento in cui era imputato per il delitto di associazione mafiosa con funzioni direttive essendo esponente di spicco della cosca di Indrangheta Piromali di Gioia Tauro. I beni sequestrati sono in provincia di Reggio Calabria e sono riconducibili a tre società immobiliari operanti nei comuni di Gioia Tauro e Palmi con un volume d'affari anno di 500 mila euro e ancora un'impresa agricola attiva nel comune di Gioia Tauro con un volume d'affari anno di 60 mila euro, 155 immobili tra cui 13 abitazioni, 36 terreni agricoli, 70 terreni edificabili, 6 depositi, 7 autorimestre, 4 uffici, 9 negozi, 8 edifici in costruzione, un capannone e un frantoio nei comuni di Gioia Tauro e Palmi con un valore stimato di circa 6 milioni di euro, diversi rapporti finanziari e assicurativi ancora. Gli accertamenti sono stati avviati a seguito dell'operazione Provvidenza della Rossa avvenuta tra il gennaio e il febbraio 2017 e che ha portato alla disarticolazione della cosca Piromali e all'arresto dei propri esponenti apicali tra cui anche Mazzaferro Teodoro, risultato direttamente collegato ai fratelli Piromali, Gioacchino, Antonio e Giuseppe. È stato così possibile ricostruire il percorso di crescita imprenditoriale di Teodoro Mazzaferro, divenuto sin dagli anni 60 un esponente di rilievo della consorteria andranghetista operante sulla piana di Gioia Tauro, vincitrice del primo conflitto di mafia scoppiato tra gli anni 70 e 80 ed oggetto del procedimento de Stefano Paolo più 59, pietra miliare della storia del contrasto alla mafia calabrese. In tale contesto, forte dei guadagni illeciti acquisiti a seguito della partecipazione nel 75 all'appalto relativo alla costruzione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, trasformato successivamente nell'attuale porto, il Mazzaferro Teodoro era riuscito a realizzare così anche una lunga serie di lottizzazioni immobiliari che nel tempo gli avevano consentito di registrare guadagni milionari immediatamente reinvestiti che lo avevano fatto diventare il più importante imprenditore immobiliare della piana di Gioia Tauro. L'ultima attività di investimento censita da parte del Mazzaferro è stata la partecipazione al piano di espansione urbanistica della città di Gioia Tauro nella zona del locale ospedale civile tramite la lottizzazione Teorema, i cui terreni erano stati acquisiti ancora agricoli prima della definizione dell'iter amministrativo di conversione inedificabili, garantendosi con le successive vendite dei forti guadagni speculativi. L'indagine patrimoniale ha confermato l'assoluta predominanza della cosca Piromalli che aveva il controllo dell'intero settore immobiliare di Gioia Tauro tramite la società immobiliare di Mazzaferro Teodoro.